Fratture multiple massiccio facciale e prognosi di 45 giorni, salvo complicazioni. Questo è il contenuto del referto col quale i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria si sono pronunciati prestando le cure ad una giovane rumena. La segnalazione per l'ite in famiglia è raggiunta al 113 e le volanti del commissariato di polizia di Vittoria sono arrivate in un'abitazione del centro cittadino. La porta era aperta e all'interno della camera da letto la scena che si è presentata ai poliziotti è stata drammatica. Riversa sul pavimento una giovane donna rumena è in preda a fortissimi dolori, col volto tumefatto e con evidenti segni di fratture ossee. Adeggiato accanto a sé il figlio letto di appena 4 mesi. Ad aggredirle il compagno, padre del piccolo, che con una violenta manata le aveva procurato a quelle gravi lesioni. L'uomo stava in corridoio, agitato e trafelato. I poliziotti lo hanno bloccato e ammanettato. Sono stati necessari l'intervento del 118. La donna è stata portata in ospedale, dove è stata sentita dai poliziotti. Immediato è stato l'intervento delle volontarie dell'associazione Il Filo di Seta, per l'assistenza alla donna vittima di violenza e al neonato. L'uomo, trentenne e con precedenti di polizia per rissa, è stato condotto in un commissariato. È ritenuto responsabile di lesioni personali gravi e danni della compagna. La lite si sarebbe scoppiata per futili motivi. La donna aveva rimproverato l'uomo perché la notte prima era stato fuori casa ed è rientrato in tarda mattinata completamente ubriaco. Non sopportando di essere rimproverato, lui l'aveva colpito al viso con una violenta manata. La vittima, nonostante le gravi lesioni, ha rifiutato il ricovero per la necessità di accusire il bimbo neonato e si è rifiutata di sporgere denuncia contro l'uomo per il timore che l'uomo stesso, una volta arrestato, non potesse più lavorare e provvedere al mantenimento suo e del figlio letto. Ha comunque implorato i poliziotti affinché all'uomo venisse impedito di avvicinarsi sia a lei che al bambino. L'associazione Il Filo di Seta ha preso in carico la situazione e ha assicurato ogni possibile assistenza e sostegno.